Anche a Palermo arrivano i poliziotti in bicicletta. È attivo infatti il servizio di prossimità e di controllo del territorio della Polizia di Stato, che si avvarrà di nuovi mezzi a due ruote per rendere più agile l'azione degli uomini in divisa, soprattutto nei luoghi della movida estiva. Le biciclette, spiegano dalla questura, donate da un'azienda locale e assegnate ai poliziotti di quartiere, serviranno per dare slancio al contrasto del borseggio e del crimine predatorio nei classici luoghi della movida e di ritrovo estivo, attraverso un più immediato contatto con cittadini e commercianti. Sul litorale di Mondello o all'interno del grosso centro storico di Palermo, ma anche sull'altro versante orientale della città, comprendendo anche Cefalù, vi potrà quindi capitare di vedere pedalare poliziotti con indossi caschetti da ciclista. La bicicletta è il mezzo tradizionalmente più agile, aggiungono dalla questura, che potrà assicurare movimenti più rapidi e interventi più dinamici anche all'interno di parchi e aree verdi della provincia, garantendo quindi efficaci standard di sicurezza anche dal punto di vista ecologico. In un momento, tra l'altro, molto particolare e problematico per la città, in cui scippi, furti e quant'altro sono ormai all'ordine del giorno e sono divenuti sempre più violenti. L'ultimo emblematico episodio solo due giorni fa in Via delle Alpi. Una donna, a bordo di una smarte, ferma ad un semaforo, è stata affiancata da tre persone che hanno rotto i finestrini e le hanno rubato uno zaino ed una borsa. L'aggressione è avvenuta davanti alla sede dell'ACI. Due giovani sono poi fuggiti a bordo di una moto, un terzo a piedi. Il tutto nell'indifferenza generale.